Il vaglio della giudice delle indagini preliminari e quindi successivamente anche al contraddittorio delle parti, quindi tutto quello che si dice con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria da parte del Pubblico Ministero trattandosi di un provvedimento del Pubblico Ministero che appunto sulla base delle considerazioni dell'ufficio di procura ha consentito di evidenziare l'operatività di queste due organizzazioni che sono collegate tra di loro, una relativa alla disponibilità di detenzione di armi da fuoco e l'altra al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare con riferimento all'associazione relativa ai reati in materia di armi, occorre evidenziare la particolare pericolosità in ragione della quantità delle armi che sono state oggetto di sequestro e che sono state ricondotte alla disponibilità di questa organizzazione. Si tratta di una settantina di armi, quindi un arsenale particolarmente ricco ma di armi estremamente pericolose perché oltre ad armi corte si tratta di armi lunghe da guerra fucili mitragliatori di diversa estrazione, diverse tipologie, diverse costruzioni che ovviamente evidenzia quanto fosse pericolosa questa organizzazione criminale e dei collegamenti di questa organizzazione criminale con articolazioni di indrangheta che operano anche in territori diversi rispetto a quello catanzarese ai quali erano destinate anche la disponibilità delle armi che sono state rinvenute sul territorio di Catanzaro, occultate anche in modo particolarmente attento secondo una tecnica collaudata appunto per consentire che le armi fossero di pronta disponibilità e ne fosse mantenuta la efficienza. L'attività di indagine ha avuto avvio proprio dall'investigazione che riguardavano la individuazione di uno dei soggetti che era destinatario della misura cautelare nel procedimento cosiddetto rinascita e che ha trovato proprio qui presso uno dei soggetti investigati poi nell'ambito di questo procedimento penale la sua protezione per cui la latitanza di questo soggetto è stata assicurata anche da questa organizzazione dagli esponenti di questa organizzazione sul territorio di Catanzaro il che evidenzia la particolare pericolosità della rete di relazione che diciamo garantisce che questa organizzazione garantisce anche ad esponenti di altre organizzazioni criminali che appunto come dicevo prima sono dislocate su altre aree del distretto di Catanzaro. Sicuramente si tratta di uno dei sequestri più importanti per la Calabria e dimostra questa attività investigativa l'efficienza della risposta dello Stato all'offensive criminali. Mette in luce la capacità di sottrarre un arsenale mai visto e mai sequestrato ai malavitosi e consente una riflessione in termini di tutela degli interessi prevalenti della collettività al fine di mantenere la convivenza civile. È un'operazione che si pone nel solco dell'attività tradizionale della risposta delle istituzioni statali del Catanzarese che negli ultimi anni ha preso corpo soprattutto in un'offensiva nei confronti della criminalità organizzata che si è tradotta in misure cautelate, in arresti, in sentenze di condanne ma anche in misura di carattere amministrativo come lo scioglimento di alcuni consigli comunali come l'emissione di alcune interdittive. Sono tutte misure che servono alla collettività per affrancarsi dalla criminalità organizzata e dalla morsa del crimine in generale. Un sequestro straordinario di armi occultate in una determinata area. Sì, un sequestro che ha pochissimi precedenti a livello regionale senza dubbio ma possiamo dire anche a livello nazionale per il numero, per la tipologia e per la spiccata potenzialità offensiva delle armi sequestrate. Armi come è stato detto ampiamente in conferenza stampa armi che erano tenute perfettamente efficienti in condizione di essere prelevate sebbene occultate e custodite in questi bidoni interrati erano comunque tenute in perfetta efficienza per cui in ogni momento potevano essere prese cedute, vendute o addirittura utilizzate. Noi abbiamo, le investigazioni nostre come è stato detto sono state di carattere tradizionale estremamente difficoltose perché i terreni in cui ci si muoveva non per niente abbiamo scelto questo nome, Secreta Collis, era una zona assolutamente impervia di difficile accesso in cui viceversa i soggetti indagati si muovevano con estrema disinvoltura e noi abbiamo filmato dopo i sequestri che siamo riusciti a effettuare in maniera anche molto riservata abbiamo poi registrato il successivo arrivo da parte di questi individui che evidentemente non trovando più le armi non capivano da chi fossero state portate via.